Prima di chiudere, io voglio ancora una volta, l'ho già fatto stamattina, ma voglio farlo anche con voi, ricordare Roberto Maroni, con il quale io sono stata collega in un altro governo, l'ho considerato una delle persone più capaci che io abbia incontrato nella mia vita, era un amico, era una persona che a questa nazione ha dato tanto a scompare oggi, era come voi sapete malato e quindi vogliamo ricordare lui e ovviamente esprimere la solidarietà alla sua famiglia.